Gemma Galgani su Instagram, come era dieci anni fa Gemma Galgani posta una foto su Instagram, mostrando come era ben dieci anni fa. La dama torinese ormai da tempo è uno dei personaggi più amati e discussi di uomini e donne. Protagonista del Trono Over, Gemma è apprezzata da una parte di pubblico, che la segue con affetto, e criticata dallaltra, che laccusa di sfruttare il programma solo per avere visibilità. Nello studio del programma di Maria De Filippi, la Galgani ha corteggiato, si è lasciata corteggiare e ha creato relazioni che sono sempre finite nel peggiore dei modi. La storia con Ennio è terminata poco dopo una festa di fidanzamento e una breve convivenza, mentre quella con Remo non è mai decollata. Giorgio Manetti sembrava lamore della vita, ma la love story è naufragata inevitabilmente, segnata da aspri scontri e frecciatine al veleno. L'ultima relazione è iniziata dopo l'addio del Cavaliere Toscano alla trasmissione di Maria De Filippi, ma dopo baci appassionati e una vacanza insieme, Gemma ha deciso di chiudere la Layson con Rocco. . Ora che è nuovamente sola, la Galgani si diverte su Instagram, dove posta quotidianamente video e foto divertenti, con hashtag che sottolineano la sua grande ironia. . La dama torinese ha voluto partecipare al Cancelletto 10 e al Challenge, la gara a cui hanno aderito VIP di Casa Nostra e Celebrity, pubblicando sui social le foto di dieci anni fa. . Dopo Simona Ventura, Michelle Hunziker e Caterina Balivo, anche la star di Uomini e Donne ha deciso di pubblicare uno scatto che risale al 2009 confrontandolo con uno di oggi. . . 10 anni di me, di voi ha scritto Gemma. . . Non sarei potuta mancare al Cancelletto 10 e al Challenge Cancelletto 2009 Cancelletto 2019 Cancelletto 10 e al Challenge Cancelletto Gemma Galgani Cancelletto ER Cancelletto Uomini e Donne Cancelletto Maina Gioia 2009 Cancelletto Maina Gioia 20193. . In tanti hanno commentato il post apparso su Instagram, complimentandosi con Gemma per la sua grande eleganza. . Che bella che sei Gemma, ora e dieci anni fa si legge e ancora, sei bellissima, la classe non è acqua oppure eri molto bella e ancora lo sei. . . La Galgani ha incassato i complimenti, ringraziando tutti i fan. . Chissà cosa ne penserà Tina Cipollari, con cui la dama non smette di scontrarsi dentro e fuori dallo studio di Uomini e Donne. .